Benvenuti in questo nuovo video, io sono KikoZ, oggi apriremo lo starter deck numero 10, l'ultra deck dedicato ai tre capitani. Un mazzo che avrà al suo interno tre leader, uno di Monkey D. Luffy, uno di Trafalgar Low e uno di Capitan Kid. Sappiamo che questi leader sono molto competitivi e attualmente stanno facendo scalpore nel meta giapponese. Al suo interno, oltre a tutte le carte del mazzo, troveremo anche un deck case, che andremo a vedere adesso. Quindi, bando alle ciance, iniziamo a spacchettare l'ultra deck di One Piece Card Game. Come vedete, la scatola è molto più grossa rispetto agli altri starter deck che sono usciti fino ad ora. Questo perché al suo interno troveremo un deck box plastificato a tema dei tre capitani. Quindi, vediamo insieme il contenuto di questo starter deck. Scatola davvero molto grossa, ma allo stesso tempo è anche molto bella, quindi un oggetto che terrei volentieri in collezione. Per prima cosa troviamo il deck box, un deck box molto bello da vedere. Secondo me è più bello rispetto a quello uscito nella Gift Box Collection 2023. Vediamo subito che sul front troviamo le immagini di Monkey D. Luffy, mentre ai lati abbiamo quella di Capitan Kid e quella di Trafalgar Low. Un deck box molto bello, molto elegante. Vediamo che anche questo possiede il nastro adesivo che permette di non far uscire le carte presenti al suo interno. E vediamo che abbiamo un pezzo di cartone per tenere le carte compatte. Ed infine il nostro mazzo dei tre capitani. Qua abbiamo il mazzo, ancora sigillato, e qua abbiamo il divisore del deck box che ci permetterà di dividere i nostri donne dalle carte del nostro mazzo. Molto bello, devo dire, questo deck case è davvero davvero molto bello, mi piace moltissimo. Sono sicuro che anche a voi piacerà davvero tanto. E vediamo quindi adesso l'ultimate deck dedicato ai tre capitani. Abbiamo 50 carte, 3 carte leader e il resto le vedremo insieme, una per una. Eccoci qua. Allora, la prima carta che troviamo è quella del leader Trafalgar Low. Una carta davvero molto bella. Possiamo notare che sul bordo c'è uno strato testurizzato simile a quello delle carte leader alternative di OP1. E mentre sul disegno, sulla sagoma, troviamo delle linee lucide, che sono quelle che state vedendo adesso, queste specie di onde d'aria. Molto belle. Mentre tutto il resto è opaco. Davvero molto curata questa carta leader. La prima che troviamo con questi strati testurizzati. Carta davvero stupenda. Leggiamo insieme il suo effetto. Active main una volta per turno. Don meno 3. Metti fino ad uno dei tuoi personaggi avversari dal costo 3000 o meno in fondo al mazzo del proprietario. E gioca fino ad una carta dal costo 4 o inferiore dalla tua mano. Quindi una carta davvero molto forte quella del leader Trafalgar Low. Sono sicuro che lo vedremo tantissimo nel meta di OP5. Mazzo da provare assolutamente. E vediamo adesso la seconda carta leader dello starter deck numero 10. Abbiamo Monkey di Luffy ragazzi. Stupenda. Carta veramente stupenda. Guardate se si riesce a intravedere. Ok. L'effetto lucido che si ha nei raggi e nella mano. E anche in questa carta troviamo lo strato testurizzato sui bordi. Classica texture che troviamo nelle carte leader. Anche questa è davvero fatta molto molto bene. Molto accattivante come illustrazione. Vediamo il suo effetto. Active main una volta per turno. Se hai 0 don in campo oppure 8 o più don. Aggiungi fino ad un don dal tuo don deck. E mettilo in modalità attiva. Quindi carta davvero molto forte. E attualmente questo leader sta facendo molto scalpore nel meta giapponese. Molto interessante. Anche questo è assolutamente da provare. E vediamo adesso il terzo leader dello starter deck. Eustace Capitan Kid. Davvero ragazzi queste carte sono veramente stupende. Ogni volta che la prendo in mano. Che ne prendo una in mano. Mi sembra davvero di prendere un leader alternativo. Quelli che siamo abituati a vedere nei set. E ragazzi sono fatte veramente molto bene. Sono state curate veramente nei minimi dettagli. Si sente proprio lo strato liscio. E quello leggermente testurizzato. Sono davvero delle carte da avere a tutti i costi. Eustace Capitan Kid. Nel tuo turno se hai 4 o più vite. Dai a questo leader meno 1000 di potenza. Quando attacca don meno 1. Questo leader guadagna 2000 di potenza durante questo turno. Anche questo non è male come effetto. Però devo dire che attualmente vediamo che Luffy e Trafalgar Low sono quelli che dominano di più nel meta giapponese. Quindi tutte le volte che attacchiamo con questo leader possiamo aggiungere 2000 di potenza scartando soltanto un Don. Non male, non male. E come carta devo dire che è veramente molto molto bella. Quindi ragazzi queste sono le 3 carte leader. Guardate anche qua l'effetto lucido. E' proprio... praticamente è una carta leader alternative. Perché è fatta davvero molto bene. Guardate come sono il braccio tutto lucido. Cioè veramente queste carte meritano davvero tanto. Guardiamo anche... facciamo un esempio. Anche questa. Non so se riuscite a notare lo strato lucido della carta. Davvero molto bello. E queste sono quindi le 3 carte leader dello starter deck numero 10. Andiamo adesso a vedere le restanti carte. Quindi le SR. La prima che vediamo è quella di Monkey di Luffy. Abbiamo una bellissima bellissima carta di questo personaggio Monkey di Luffy. Anche questa carta possiede uno strato lucido davvero molto bello. Che la rende davvero unica come carta. E siamo abituati a vedere le SR classiche opache. Mentre questa qua è totalmente diversa. Perché ha in più questo strato lucido molto bello. Molto... molto delicato al tatto. E... E' molto curato. Perché vediamo che la scritta è leggermente in rilievo. Anche se magari così non si vede. Però al tatto si sente molto. Davvero molto molto fine come carta. E non me l'aspettavo sinceramente di trovare delle SR curate in questa maniera. Anche questa ovviamente è una di quelle carte che bisogna avere a tutti i costi in collezione. E perché no? Anche nel mazzo. Allora è una carta da 10 donne. 11.000 di potenza. Rush. Quindi può attaccare quando viene giocata. E una volta per turno. Quando il tuo avversario attiva i blocker. Manda KO fino ad uno dei tuoi personaggi avversari dal costo 8.000 o inferiore. Quindi ragazzi questa è davvero una bomba come carta. Molto bella. A livello estetico. E anche molto forte. Adesso andiamo a vedere la prossima SR. Di questa ne abbiamo due. Che sono queste qua. E adesso vediamo la seconda. Abbiamo Trafalgar Low. Allora a livello artistico questa mi piace già meno rispetto a quella di Monkey D. Luffy. Ma come effetto devo dire che questa carta è molto molto forte. La carta è un blocker. E il suo effetto on play don meno uno. Se il tuo avversario ha sette o più carte nella sua mano. Trascia due carte dalla mano del tuo avversario. Vediamo invece la sua foilatura. Anche questa prevede uno strato lucido molto bello. Meno texture rispetto alle altre. E anche qua troviamo lo strato lucido che al tatto è davvero molto molto appagante. Seconda carta SR. Di questa ne abbiamo due. E adesso passiamo alla terza SR. Eustace Capitan Kid. Carta davvero molto molto bella ragazzi. Questa mi piace davvero un sacco. Guardate l'effetto lucido della carta. Ragazzi io al tatto trovo che queste carte siano davvero stupende. Perché sentiamo una parte liscia, una parte opaca. Sono davvero molto felice che si siano impegnati così tanto per realizzare delle carte in questa maniera. Per uno starter deck e non per delle carte alternative che difficilmente si trovano comunque. Non è molto semplice da trovare. Mentre uno starter deck sai già di avere queste carte. E queste sono fatte davvero molto bene. La carta richiede 7 don, 8000 di potenza. Il suo effetto on play quando attacca. Don meno uno. Fino ad uno dei tuoi leader guadagna più 1000 di potenza fino all'inizio del prossimo turno. Molto forte come carta. E di questa ne abbiamo due. Ok passiamo adesso alle altre SR del mazzo che non sono esclusive di questo set. Ma sono delle ristampe di carte di OP01. Ne abbiamo due. La prima è quella di Rorono Azzoro. Finalmente abbiamo la ristampa in questa versione diversa, comunque alternative, di una carta che conosciamo ormai fin troppo bene. Giocata moltissimo nel mazzo di Rorono Azzoro e di Trafalgar Law. Sappiamo tutti che all'inizio questa carta costava tantissimo. Si trovava intorno ai 25 euro. Mentre adesso, con il fatto che sia uscita questa ristampa, il prezzo è calato davvero drasticamente. Carta molto bella, molto utilizzata nel gioco a livello competitivo. Sono molto contento che l'abbiano ristampata. A livello artistico è decisamente molto più bella di quella originale. Di questa qua ne abbiamo ben quattro. Quattro carte per Rorono Azzoro. Anche queste presentano una texture liscia e sono davvero molto molto belle. Quindi passiamo adesso alla seconda carta ristampa di OP01. e abbiamo finalmente la nostra NAMI. Guardate questa carta. Guardate la texture che si vede in sfondo. Non credevo onestamente che queste carte sarebbero state così curate. Davvero davvero molto molto belle. Abbiamo questa texture sullo sfondo molto molto carina. E' il classico strato lucido che tende a coprire certi punti dell'immagine. Illustrazione stupenda per NAMI. La carta è un searcher. Il suo affetto è un play. Guarda fino a 5 carte dalla cima del tuo deck. Rivela fino ad una carta straw hat crew che non sia NAMI e aggiungila alla tua mano. Dopodiché rimetti il resto delle carte in fondo al deck in qualsiasi ordine. Questa carta nella sua versione originale la troviamo con due errori di stampa. La prima ha Reveal 1 straw hat crew. Mentre la versione originale è la versione corretta è Reveal up to 1 straw hat crew. Mentre la seconda carta errata presenta la scritta character card. Che invece dovrebbe essere type card. Quindi ragazzi. Carta davvero molto bella. Davvero stupenda come carta. Illustrazione la lascia veramente senza parole. E anche di questa ne abbiamo quattro copie. Carte stupende ragazzi. Meritano tutte dalla prima all'ultima. Sembra di avere tra le mani delle carte alternative. Molto molto belle. Quindi le mettiamo via. E iniziamo a vedere le altre carte del mazzo. Che sono tutte foil. Come vedete questa carta qua è completamente foil. Non presenta strati testurizzati. Ma di questo non ci lamentiamo. Ma come vedete ha questa foilatura che occupa tutta la carta. Proprio come le carte rare che siamo invitati a vedere nelle varie espansioni. Il suo effetto on place. Se il tuo avversario ha un personaggio da 5.000 di potenza o più. Questo personaggio guadagna rush durante il turno. Molto forte come carta. E di questa ne abbiamo quattro copie. Davvero molto bella. Poi abbiamo Jinbe. Jinbe. Carta secondo me fortissima. E molto giocata nel metodo attuale in Giappone. E' una carta che quando attacca dai fino ad uno dei tuoi personaggi avversari. Meno 2.000 durante questo turno. Molto molto bella anche esteticamente. Come vedete anche questa è completamente foil. E di questa ne abbiamo due. Poi abbiamo Killer. Durante il tuo turno, una volta per turno, quando una carta donna ritorna nel tuo don deck. Manda a capo o fino ad uno dei tuoi personaggi spossati avversari dal costo 3 o inferiore. Molto forte anche questa carta. E ne abbiamo due se non sbaglio. No, quattro. Quattro carte per Killer. Molto bella. Anche questa vedete molto brillante. E poi abbiamo Shachi e Penguin. Se hai tre o meno donne nel tuo campo. Aggiungi fino a due donne dal don deck in modalità spossata. Molto forte. Quindi ci permette di rampare i don. E di questa ne abbiamo quattro coppie. Poi abbiamo il Gem Bart. Gem Bart, carta da 5.000 di potenza. Il suo effetto on play pagando un don. Aggiungi fino ad una carta don in modalità attiva. Dal tuo don deck. Molto utile anche questa. E ne abbiamo quattro. Anche di questa carta quattro coppie. Poi abbiamo Hit. Nel tuo turno, una volta per turno, quando una carta don nel tuo campo ritorna nel tuo don deck, questa carta guadagna 2.000 di potenza fino all'inizio del prossimo turno. Quindi tutte carte che ci permettono o di rampare i don o comunque di attivare effetti come questo quando i don vengono rimessi nel don deck. E di questa ne abbiamo quattro coppie. Molto bene. Quattro coppie per Hit. E adesso vediamo Bipo. Bipo, il suo effetto on play quando attacca. Se il tuo avversario ha più donne in campo rispetto ai tuoi, aggiungi fino ad una carta don dal tuo don deck in modalità Rested. Molto utile anche questa. E ne abbiamo quattro coppie. Quindi per adesso solo ramping. Poi abbiamo Wire. Una carta blocker. Quando una carta don dal tuo campo ritorna nel tuo don deck, pesca una carta e trascia una carta dalla mano. Non male anche questo effetto. Di questa ne abbiamo quattro coppie. E poi abbiamo gli eventi. Come vedete anche gli eventi sono foil. Molto belli, curati molto nel dettaglio. E questa qua è una carta counter. Fino ad uno dei tuoi leader o personaggi guadagnano più 2.000 di potenza durante questa battaglia. E manda KO fino ad uno dei tuoi personaggi avversari dal costo 2.000 o inferiore. Un counter che costa soltanto un don per essere giocato. E ne abbiamo due coppie. Gum Gum con Gatling. Una carta da 5 don. Il suo effetto principale. Manda KO fino ad uno dei tuoi personaggi avversari dal costo 7.000 o inferiore. Mentre il suo effetto trigger. Fino ad uno dei tuoi leader guadagna 1.000 di potenza fino alla fine del prossimo turno. Davvero, davvero, niente male. Di questa ne abbiamo una, due coppie. E poi gli eventi viola. Punk Vice. Una carta da 3 don. Il suo effetto principale spossa fino ad uno dei tuoi personaggi avversari dal costo 2.000 o inferiore. E aggiungi un don dal tuo don deck in modalità spossata. Quindi un evento che ci permette di rampare e mettere in modalità spossata il nostro personaggio avversario. Di questa ne abbiamo due coppie. E per finire troviamo i don dello starter deck. Questa volta abbiamo i don foil. Sono molto carini a vederli così. Hanno questa foilatura semplice che gli dà questo effetto, come vedete, multicolore. Molto bello. E ne abbiamo dieci. Dieci don foil per lo starter deck numero dieci. Quindi andiamo a rivedere le carte dell'ultra deck dei tre capitani. Qualità delle carte davvero altissima. Sono molto contento di aver fatto questo acquisto. Non me ne pento e spero vivamente che escano altri prodotti simili, come quello che dovrebbe uscire il prossimo anno, dedicato ai tre fratelli. Luffy, Ace e Sabo. Quindi diamo un'occhiata finale alle carte. Abbiamo Trafalgar Low, leader. Poi abbiamo Monkey di Luffy. Forse tra i tre leader questo è quello più bello. Capitan Kid. Monkey di Luffy. Bellissima questa SR. Trafalgar Low. Eustace Capitan Kid. Roranoa Zoro. Molto molto bella. Ed infine questa spettacolare Nami in versione SR. Simile alle SR, anche se in realtà qua sotto troviamo la scritta rara. Molto bene. Queste erano le carte dello Starter Deck numero 10. Spero che il video vi sia piaciuto. E fatemi sapere nei commenti se anche voi avete deciso di acquistare queste bellissime carte. Questo deck che comprende non solo le carte dello Starter Deck ma anche un deck case davvero molto bello. Per questo video è tutto e vi vedo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!